Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed in questo breve video vediamo come personalizzare l'icona di una propria cartella Windows Come potete vedere i nostri programmi installati sul computer hanno una determinata icona E' bello avere un'icona anche noi personalizzata di una nostra cartella Facciamo un esempio, innanzitutto apriamo la tendina sul desktop e facciamo sul nuovo cartella Una volta creata la cartella dovremo andare semplicemente su proprietà sempre aprendo la tendina E andare sulla voce personalizza Infine cambia icona e Windows di default ci darà una serie di icone pronte da applicare Molte icone come potete vedere sono simili e di sistema che altre applicazioni o altri programmi utilizzano già nel proprio sistema operativo Ma comunque se volete avere un'altra visualizzazione per scegliere l'icone potete seguire il percorso che vi da questa voce presente nelle proprietà Oppure, meglio ancora, potrete scaricare da internet delle icone a vostro piacimento Ci sono numerosi siti che permettono il download libero di queste icone con un'apposita funzione di ricerca dove potrete sbizzarrirvi a proprio piacimento Ma ci sono anche altri metodi come andare a cercare appositamente l'estensione che in questo caso naturalmente è l'estensione ICO E in questo modo potrete scaricare manualmente queste estensioni e poterle applicare sulla propria cartella desiderata Premetto che questa operazione è possibile farla solamente per le cartelle classiche di Windows Non per esempio per cartelle compresse oppure programmi e software generici Bene, per questo è tutto, spero che possa essere utile soprattutto nella personalizzazione del proprio sistema operativo Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial